Ciao a tutti! Oggi prepareremo il cavolfiore affogato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono cavolfiore, acqua, pecorino, sale, olio, acciuga, pepe nero, vino bianco, olive nere e prezzemolo tritato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il aroma con il cavolfiore, mettiamo il pecorino, le olive nere, i filetti di acciuga che abbiamo spezzettato, un pizzico di sale, il pepe nero, chiudiamo con il coperchio e lo facciamo cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità a 2. aggiungiamo il vino bianco, l'olio e continuiamo la cottura per altri 20 minuti, varoma, velocità a 2. Il cavolfiore è pronto, andiamo a impiattare spolverizzando con il prezzemolo tritato e mettendo un po' di sughetto. Cavolfiore affogato, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!